Martedì prossimo l'Aquila ospiterà un incontro per sincronizzare le azioni della regione con quelle dei territori colpite dal maltempo nella Marsica il 15 ottobre scorso. Un vertice tra i sindaci della Marsica con il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pancrazio e il sottosegretario alla presidenza della giunta Mario Mazzocca si è svolto appunto al comune di Avezzano per definire le procedure finalizzate alla richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza in seguito all'alluvione. Il sottosegretario Mazzocca ha rivolto un invito ai sindaci presenti c'erano quelli di Avezzano, Civitella Roveto, Balsorano, Canistro, San Vincenzo, Capistrello, Luco, San Benedetto de Marsi, Carsoli, Moreno e Magliano. Ai sindaci viene chiesto di dettagliare quanto più possibile i danni causati dal maltempo alle infrastrutture e alle culture del territorio al fine di supportare in maniera ottimale la richiesta che la regione ha avanzato per la dichiarazione dello stato di emergenza alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Alla riunione tecnica hanno partecipato anche i rappresentanti del Consorzio di Bonifica, la Coldiretti, la Confagricoltura e ogni ingegnere della protezione civile. Il presidente del Consiglio regionale inoltre ha dichiarato che la regione si è attivata per recepire finanziamenti per la pulizia delle strade e dei canali del Fucino, fino ad oggi di incerta competenza. Il collettore centrale ha sostenuto uno dei rappresentanti del Consorzio e le strutture canalizzate sono state danneggiate e per questo non è necessario solo un intervento di manutenzione ordinaria ma straordinaria.